Salve ragazzi e benvenuti in questa ultima puntata che finalmente dedichiamo a Kant, autore a cui abbiamo dedicato tantissime puntate per descrivere i suoi tre capolavori e gli scritti precritici. Questa è la parte finale della sua vita, la critica del giudizio, la terza critica uscita negli anni 90, pensate, Kant era del 1724, quindi era già bello anziano. Gli ultimi testi però sono quei testi che sono diventati più celebre nella Vulgate, perché sì, la critica è ragion pura, chi non la conosce, ma pochi l'hanno letta, pochi la capiscono, bisogna essere filosofi, tra virgolette, di mestiere per affrontare dei testi del genere. Nell'ultima parte invece della vita di Kant, Kant si dedica a parlare di filosofia del diritto, di giusnaturalismo, di stato, di libertà, di pace, quindi diventa più un Kant impegnato, un Kant che ormai ha, tra virgolette, poco da perdere, tanto che è proprio sulle ultime opere che incontrerà la severità della censura. E proprio qui, infatti, troviamo, tra virgolette, il Kant più rivoluzionario, più pericoloso. Le opere di cui andremo a parlare oggi, appunto, sono opere successive agli anni 90. La prima opera di cui voglio subito parlarvi, ed è un'opera estremamente insidiosa, di cui Kant torna a parlare di morale, è La religione entro i limiti della sola ragione. Quindi, ovviamente, già dal titolo, capiamo la provocatorietà, testo del 1793, quindi tre anni dopo, successivi alla terza critica, La religione entro i limiti della sola ragione, già si spiega il motivo per cui Kant scrive quest'opera. E il motivo è semplice e chiaro. La religione, o perlomeno il nucleo essenziale della religione, direi Kant, dipende da un nucleo razionale, ragionativo. Quindi non esiste per Kant una fede, potremmo dire, d'impulso, data d'impulso. In questo è fortemente anticristiano, perché noi sappiamo che per i cristiani, appunto, la fede è qualcosa di totalmente contrapposto alla ragione, perché è proprio l'atto di fede. Se fosse un atto razionale, non avremmo più la fede. Kant, per questo motivo, invece, non crede a ciò. Per Kant è ovvio che esiste la religione rivelata. Ma la religione rivelata ha meramente una funzione funzionale, cioè serve per le persone semplici. La Bibbia, leggere la scrittura, serve per le persone a cui bisogna, tra virgolette, insegnare una moralità facile di facile accesso. Ma il vero messaggio di Kant in quest'opera, il vero messaggio della religione, è un messaggio estremamente razionale. La ragione già insegna all'uomo tutto ciò che deve sapere per comportarsi in maniera corretta, per comportarsi secondo la fede. E infatti ci dice proprio Kant in quest'opera, diciamo proprio l'incipit, l'incipit alla prefazione dell'opera, della prima edizione, la morale, in quanto basata sul concetto dell'uomo. Questa è una missione di antropocentrismo, morale netto, fortissimo. La morale si basa sul concetto dell'uomo, non, in virgolette, sul concetto di Dio, ci sta dicendo Kant. Non ha bisogno né dell'idea di un altro essere superiore all'uomo, cioè non ha bisogno dell'uomo per comportarsi bene, per essere una persona con fede, che segue la religione, non ha bisogno di un concetto divino. È molto interessante perché Kant ci presenta quasi una sorta di religione umanitaria, una sorta di religione immanente, estranea invece all'idea di un Dio trascendente che sta nell'iperuragno. Onde questi conosca il suo dovere né di un movente diverso, quindi non ha bisogno né di un essere superiore dove, dov'è che non ha bisogno di questo essere superiore, qualora questi, qualora l'uomo conosca il suo dovere morale, né di un movente diverso dalla legge morale stessa, perché egli lo compia. La legge morale, che è già dentro l'uomo, che è già implicita nella sua razionalità, nella sua ragione pratica, è sufficiente per rendere l'uomo un essere perfettamente religioso, religioso in senso razionalistico, in senso umanitario, in senso assolutamente immanente, quindi assolutamente terreno, senza riferimenti alla divinità, senza riferimenti alla trascendenza. Essa dunque per se stessa non ha assolutamente bisogno di appoggiarsi sulla religione. La morale non ha bisogno di appoggiarsi sulla religione. In virtù della ragione pura pratica, essa basta a sé stessa. Allora, le scritture vanno bruciate? Kant dice no, perché le scritture, le sacre scritture, comunque, soprattutto con riferimento al Nuovo Testamento, quindi agli insegnamenti di Gesù, sono una via più facile per il popolo per accedere alla moralità, per accedere alla legge morale. Ma dirà, se la legge, se la religione rivelata è, potremmo dire, qualcosa di accessorio, il vero nucleo della religione è il suo nucleo razionale, è la legge morale. E sarebbe un po' come dire, l'uomo per diventare buono, per seguire la legge morale, ha bisogno della religione. Esattamente è il contrario, ci dirà Kant. È grazie alla legge morale già insita dentro l'uomo che l'uomo può diventare religione, religioso, che l'uomo può avere accesso agli insegnamenti della Bibbia, ad esempio. Quindi la Bibbia, la religione, il Nuovo Testamento, gli insegnamenti di Gesù non sono essenziali. Per essere esseri morali basterebbe la ragione. Infatti andiamo subito a leggere due righe, poi smetto di leggervi il testo originale, ma così dirà Kant rivolgendosi alla figura di Gesù Cristo. Tuttavia il buon principio non è certo sceso dal cielo nell'umanità in una determinata epoca, ma fin dall'origine del genere umano in modo invisibile. C'è poco da dire, questo testo provocherà non pochi problemi a Kant, che gli verrà esplicitamente chiesto, a Kant verrà esplicitamente chiesto di non trattare più di questi argomenti e lui, però successivamente alla morte del sovrano di Prussia, continuerà a scrivere, continuerà e scavalcherà questo, potremmo dire, questo attenzionamento che la censura prussiana aveva posto sulle opere kantiane. Altra opera scritta diversi anni dopo la fondazione della religione entro il limite della sola ragione è un'opera che si chiama e prende il nome di La Metafisica dei Costumi, l'opera morale di riferimento affiancabile tranquillamente alla critica e alla ragione pratica è probabilmente anche più corposa di questo secondo scritto. Di cosa tratta La Metafisica dei Costumi? Tratta dell'applicazione dei principi della ragione pratica alla vita di tutti i giorni, alla vita quotidiana, soprattutto al diritto allo Stato e al concetto di libertà, ma soprattutto di filosofia del diritto. Molti avevano criticato Kant per aver elencato, i principi formali nella critica della ragione pratica, poi non aveva effettivamente tradotto questi principi nella concretezza della politica, del diritto dello Stato. Beh, lo fa in quest'opera, lo fa in quest'opera estremamente matura, Kant è già anziano, ma parla proprio del diritto. Che cos'è il diritto allora per Kant? Per Kant, ancora una volta, il diritto è qualcosa che deriva subito, immediatamente dalla ragione, quindi è estrapolabile dalla ragione. Ecco perché a Kant non interessa tanto il giusnaturalismo, Hobbes, Locke, Rousseau, che avevano tentato di ricostruire il diritto partendo dalla genesi storica, dall'uomo primitivo che si riunisce in società attraverso il contratto sociale, eccetera, eccetera. Kant prende questo discorso e lo accantona. Lo accantona molto semplicemente perché dice i nostri diritti non dipendono dalla storia degli uomini primitivi che si sono associati prima attraverso il villaggio, poi nelle città, eccetera, ma costituisce nell'essenza della ragione dell'uomo, quindi fin da quando l'uomo ha una ragione unica e condivisibile tra tutti gli altri uomini, ha un unico diritto che prende avvio proprio da questa razionalità, dice Kant, quindi è inutile ricostruire la genesi storica, perché il diritto non cambia in base alla storia o in base ai contesti sociali. Il diritto è iscritto nella capacità razionale dell'uomo. Questo comporta però dei vincoli, perché allora il diritto è qualcosa di uno per tutti gli uomini, deve essere qualcosa di uno per tutti gli uomini. L'idea di buono, di giusto e di sbagliato è qualcosa che è iscritto nella ragione e per tale deve essere uguale per tutti gli uomini. Questo è molto interessante perché poi nell'applicazione del diritto questo significherebbe che non ci si può appoggiare un'idea tanto relativistica del diritto, perché essendo uno strumento fornito ci dà la ragione, la ragione è una, e allora il diritto, nell'ottica kantiana, dovrà essere uno anch'esso, uno per tutti, potremmo dire. Prima di passare allo Stato, piccola parentesi sulla libertà, tanto si sente parlare della libertà kantiana anche in questo periodo. Kant va molto di moda, soprattutto per la frase diventata celebre sui social, agisci, la tua libertà finisce dove inizia la mia, che tradotta non restituisce per nulla il senso proprio della libertà kantiana, ma restituisce molto di più il senso della libertà kantiana questa frase di Kant. Agisci esternamente in modo che il libero uso del tuo arbitrio possa coesistere con la libertà di ognuno, secondo una legge universale. Quindi non c'è tanto un'idea di singolarità, di individualismo. Allora, io ho un diritto e il mio diritto finisce dove inizia il tuo, e rimaniamo due monadi isolate, egoistiche, in cui appunto tu devi rinunciare a un pezzo perché io possa favorire del mio. Perché sarebbe anche una concezione abbastanza paradossale se ci pensassimo a mente fredda in una logica individualista, non puoi dire sostanzialmente tu devi rinunciare al tuo diritto perché così io posso far valere il mio. Perché questo sostanzialmente ci dice la massima diventata celebre di Kant è un po' veramente distorta. La mia libertà finisce dove inizia la tua. Non ha nessun senso come logica, perché molto semplicemente a questo punto qui non c'è nessun dato razionale su cui basare il fatto dove debba finire la mia libertà e dove debba iniziare la tua. Non c'è nessun dato razionale. Ma molto più intelligentemente Kant ci sta dicendo che la rinuncia deve essere, se io rinuncio a una parte della mia libertà, non è per favorire la libertà dell'altro, ma anche l'altro rinuncia alla sua parte di libertà. Attenzione, è questo il dato fondamentale. Quindi non è che io lascio libero uno spazio vuoto nella mia individualità per lasciare spazio all'individualità dell'altro. Io faccio posto nella mia individualità, nel mio egoismo di essere cittadino, di essere egoista appunto, ma anche l'altro deve fare spazio. Allo stesso modo deve rinunciare a quella parte di libertà per ritrovare dentro quello spazio quella libertà a livello di legge universale, a livello di popolo, a livello di nazione, a livello di stato. Ecco dove allora la rinuncia può essere fatta, dove ciascuno rinuncia, ma tutti dobbiamo rinunciare, perché non c'è una rinuncia alla mia libertà in virtù di garantire l'egoismo dell'altro, ma c'è la rinuncia alla mia libertà e la rinuncia anche allo stesso tempo dell'altro, della libertà dell'altro per garantire l'idea di una libertà più profonda, vissuta a livello universale, di legge universale, vissuta anche nel pieno rispetto della universalizzabilità della morale, della legge morale. Per quanto riguarda invece lo stato e la teoria dello stato, possiamo chiederci Kant che tipo di stato penserà nelle sue ultime opere della sua vita. Lo stato, visto da Kant cos'è, o ipotizzato da Kant come il migliore degli stati possibili, che tipo di stato è? È uno stato fondamentalmente, spoileriamo subito, liberale. Estremamente liberale, anzi forse più liberale dello stesso stato ipotizzato da Locke. Infatti Kant rinuncerà, leggiamo un attimo, all'idea di stato confessionale, che si occupa della salvezza dell'anima, rinuncerà all'idea di stato etico, che è quel tipo di stato che si preoccupa di realizzare la virtù, rinuncerà all'idea di stato comunista, che invece si occupa della redistribuzione economica all'interno dei propri cittadini, e rinuncerà all'idea di stato paternalistico o eudemonistico, c'è quello stato che deve far realizzare la felicità o una determinata felicità dei propri cittadini. Kant è estremamente questo libertario, perché Kant dice che lo stato deve essere un insieme di leggi che permettano a ciascuno dei propri individui, ovviamente dal rispetto della comunità, di poter raggiungere l'idea di felicità che gli è più consona, che gli è più prossima. Ecco che qui vediamo tutta la potenza liberale del stato ipotizzato da Kant, che Norberto Boppio definirà un vero e proprio stato di diritto, dove è il diritto che la fa da padrone e dove è il diritto che appunto crea la situazione per generare la possibilità in ciascuno dei suoi membri di crearsi la propria felicità. E arriviamo infine a una delle ultime opere della vita kantiana, sicuramente la più celebre, quella più citata, quella più letta, quella che va più di moda, è un piccolo libretto che si chiama Kant per la pace perpetua. Questo livello, scritto da Kant nel 1695, elenca le condizioni per una pace non solo nello stato tra i cittadini, ma anche per uno stato nell'idea di, in un'ottica di stato universale, quindi una pace che venga portata avanti a livello universale. Qual è questa pace? Beh, Kant redige sei punti che sono essenziali per intessere una assemblea di stati, possiamo pensare, se ne volessimo, all'Unione Europea o a qualsiasi altra Unione di Stati, che mantenendo la propria sovranità, rinunciano a parte della loro potenza per garantire in questa associazione una pace durevole e duratura. Leggiamo questi punti, perché sono sei e tutti non me li ricordo a memoria, così possiamo essere anche più precisi. Numero uno, nessun trattato di pace è valido se implica una guerra futura. Questa è la prima idea, cioè quando si stipula una pace, l'idea di pace deve garantire una pace perpetua e pieditura, non può far maturare nel frattempo le condizioni che porteranno una guerra futura. Numero due, nessuno Stato indipendente può essere ceduto per vendita, eredità, scambio, donazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi secondo punto, l'inviolabile, potremmo dire, l'inviolabilità della sovranità dello Stato, quale possedimento, quale possesso di ogni singolo individuo. Quindi lo Stato non è un oggetto che può essere posseduto un sovrano, ma è, potremmo dire, il possesso di tutti i singoli abitanti che vivono su quel territorio. Numero tre, la scomparsa progressiva degli eserciti permanenti, quale obiettivo da perseguire. Numero quattro, non si possono fare debiti per finanziare guerre estere. Questo è molto importante, quindi potremmo dire la rinuncia a finanziare la guerra non deve essere tollerata l'intromissione di uno Stato negli affari di un altro Stato. E in punto numero sei, nessuno Stato in guerra deve compiere atti che rendano impossibile la pace futura, quindi la mancanza di rispetto dei patti, il tradimenti, azioni vili o, potremmo dire, l'utilizzo di azioni estremamente violente e, tra virgolette, imperdonabili. Da questi sei punti nascono tre esigenze, tre esigenze necessarie senza le quali, dice Kant, non potranno essere portati a compimento questi punti, che sono, numero uno, gli Stati devono essere repubblicani. Numero due, il diritto internazionale deve fondarsi su federazioni di Stati liberi. E numero tre, il diritto cosmopolitico deve limitarsi a gestire i rapporti di ospitalità anche per quanto riguarda gli stranieri e persone che vengono da fuori, quindi preoccuparsi di dare ospitalità ma al contempo anche che venga garantita il rispetto di questi ospiti delle leggi del diritto nazionale e internazionale. Queste sono un po' le opere, le tre opere che io ho voluto mettere un po' in risalto della maturità kantiana, gli ultimi scritti, ovviamente ce ne sono tanti altri, ci sono delle lezioni, insomma ce ne sarebbe da parlare per anni di Kant. Ha scritto tantissimo, è stato un autore importantissimo. Inizialmente la fortuna fu un po' vacillante delle sue prime opere delle critiche, poi dopo oggi non possiamo fare a meno, quando all'interno in percorso di studi filosofici non possiamo mai fare a meno di parlare di Immanuel Kant, un filosofo che ha cambiato fin dalle fondamenta la struttura della filosofia moderna, un filosofo con cui noi contemporanei non possiamo non fare i conti. Io ti ringrazio per avermi seguito, iscriviti al canale se ti interessano questi tipi di contenuti, noi ci sentiamo in una prossima puntata, intanto, grazie mille.